era sempre accanto a me ovunque andassi quando dormivo quando mangiavo quando ero a lavoro anche mentre ero a bere con gli amici o a guardare la tv non la potevo sopportare anche quella sera erano circa le tre del mattino la sentivo potevo sentirla respirare c'era una finestra aperta dicono che l'anima pesi solo pochi grammi ma quel peso mi opprimeva soltanto un piccolo salto e avrei smesso di soffrire